In questo servizio parliamo di lavori pubblici a Clusone, vogliamo fare un aggiornamento sugli interventi con l'assessore ai lavori pubblici Davide Calegari. Partirei dall'opera più attesa, ovvero il nuovo parco pubblico. I lavori sono iniziati, a che punto siamo? Sì, partiamo proprio dall'opera più attesa e anche da quella economicamente più rilevante che è proprio la realizzazione del nuovo parco, il parco del Castello, un'opera da 660 mila euro finanziata con 500 mila euro da contributo di Regione Lombardia e la restante parte finanziata con risorse di bilancio. I lavori stanno procedendo rispettando il programma, diciamo che sono stati completati i tracciamenti dei camminamenti principali, sotto questi camminamenti sono stati eseguiti e completati tutti i sottoservizi, sono stati installati anche posizionati i plinti per i pali dell'illuminazione e quindi dicevamo il programma sta procedendo. Entro fine anno sarà completata anche la piantumazione di tutte le piante, tutta la tipologia di vegetazione, sarà completata anche l'installazione dei giochi per bambini, completato l'arredo, completati i camminamenti con lo stabilizzato e completata anche l'illuminazione. Cos'è che rimandiamo? Rimandiamo alla primavera prossima la scoticatura del terreno e la semina perché ci dobbiamo aspettare per forza delle temperature adeguate. A completamento di tutto quel comparto abbiamo altri due interventi già finanziati e già messi a programma che riguardano il primo il Monte Polenta, un intervento da 200 mila euro finanziato con risorse di bilancio, siamo finalmente arrivati ad approvare il progetto definitivo ed esecutivo che avverrà nei prossimi giorni, nel giro di un paio di settimane. È stato un iter molto lungo, molto impegnativo, molto complesso proprio perché ci troviamo in una zona altamente vincolata e quindi c'è stato un confronto a più ripresi tra i progettisti e la soprintendenza. Finalmente siamo arrivati alla fase finale di questo iter, quindi lo riteniamo concluso. Adesso procederemo con l'affidamento dei lavori e un intervento che molto probabilmente inizierà l'anno prossimo, quindi sul 2024 e sarà completato per la primavera in concomitanza con la fine dei lavori della realizzazione del parco. L'altro intervento che riguarda sempre lo stesso comparto è il blocco servizi, ovvero il bar con deposito, attrezzi, magazzino e servizi igienici che andrà a completare il parco, quindi sarà inserito all'interno del parco un intervento da 440 mila euro finanziato con mezzi propri di bilancio e servirà a completare quindi il parco offrendo anche un ulteriore servizio. Pensiamo che questo parco sarà un parco molto utilizzato dai cittadini durante tutto il periodo dell'anno, un parco che come abbiamo già fatto vedere anche durante una riunione aperta ai cittadini, abbiamo fatto vedere che non ci sarà recensione, proprio perché abbiamo in mente che possa essere un parco libero, utilizzato in tutte le ore del giorno e in tutti i periodi dell'anno. Quindi quando si potrà utilizzare il nuovo parco? Il nuovo parco si potrà utilizzare dalla prossima primavera, come abbiamo detto in precedenza avrà la semina probabilmente a marzo quando le temperature saranno idonee, ma dalla prossima primavera sarà comunque utilizzabile. Rimane che all'interno del parco ci sarà un ulteriore cantiere, che sarà ovviamente delimitato per questioni di sicurezza, dove nel frattempo ci saranno i lavori riguardanti il blocco servizi. Un blocco servizi che adesso vediamo come andrà a progettazione e poi affidamento dei lavori, speriamo di riuscire ad ultimare per l'estate. Allarghiamo adesso l'orizzonte, oltre la zona del nuovo parco pubblico, quali sono gli interventi in corso in questo momento e quali gli interventi che partiranno nelle prossime settimane? Parliamo di messa in sicurezza, parliamo di efficientamento energetico. Attualmente si sta facendo un intervento per quanto riguarda la segnaletica orizzontale, che ricordo è la segnaletica che avviene a terra, quindi strisce, attraversamenti pedonali piuttosto che parcheggi. E il terzo intervento che viene eseguito sul 2023 per un totale di 20.000 euro, che riguardanti solo la segnaletica orizzontale. Nei prossimi giorni poi cominceranno i lavori per un'importante messa in sicurezza e sappiamo quanto è importante e quanto sta a cuore a questa amministrazione prevenire, piuttosto che avere poi dei danni magari più grossi e dover operare in urgenza, che è quella della messa in sicurezza del ponte di Valflesch. È il ponte che porta verso il campeggio. Ci sono delle pile, ovvero dove è posizionato il ponte, quindi il sostegno del ponte. Sono delle pile che sono danneggiate, quindi devono essere rinforzate, consolidate. Oltre a questo verrà sistemata una parte dell'alveo a monte e a valle. Come amministrazione abbiamo avuto a disposizione 56.000 euro, quindi risorse da bilancio e nei prossimi giorni cominceranno i lavori per quest'opera. Due importanti interventi sulla pubblica illuminazione, quindi efficientamento energetico per portare tutto a LED. Riguardano invece due lavori che sono stati affidati nei giorni scorsi. Il primo intervento è un intervento da 105.000 euro che riguarda tutta la parte est periferica al centro storico, partendo da nord e arrivando fino a sud. Quindi si parla della via Sonvico, dalla via Narno, via San Defendente, via Milano, fino arrivando alla via Baldi. Quindi quello è un comparto che verrà portato tutto a LED. E l'altro intervento è invece un intervento da 80.000 euro, finanziato quasi completamente da un contributo statale, che riguarderà via Le Venezia, via Bonomelli, via Cosimo Fanzago e via Brigata Tridentina. Anche sul discorso dell'efficientamento energetico teniamo molto a sottolineare che efficientare vuol dire sì dare più sicurezza, più luminosità, inquinare meno dal punto di vista luminoso, ma soprattutto contenere i consumi. Contenere i consumi vuol dire contenere anche i costi, soprattutto in questi due anni, dove abbiamo visto che il costo di energia elettrica è molto aumentato. interventi di questo tipo ci portano a ridurre anche del 30% i consumi e di conseguenza anche i costi. Sappiamo poi che ci sono altre due novità fresche degli ultimi giorni che riguardano altri due interventi. Quali sono? Sì, una è una messa in sicurezza del Palazzo Comunale, quindi del tetto dell'Ala Sud. Ci siamo accorti nell'ultimo mese che c'è stato un danneggiamento di una trave principale, una trave portante del tetto, purtroppo dovuta a delle infiltrazioni, dalla copertura di cui non si poteva sapere perché era un pezzo che era cassonato, ha ceduto la trave, quindi durante l'ultimo Consiglio Comunale siamo andati in variazione di bilancio, sono stati messi 30.000 euro proprio per andare a riposizionare la trave, mettere un sostegno e fare un intervento sulla copertura per eliminare queste infiltrazioni. L'altro intervento riguarda un investimento dal punto di vista turistico è il percorso e-bike di cui abbiamo parlato più volte, che è il percorso e-bike che collegherà la spessa alla capanna e l'aria, un intervento da 190.000 euro finanziato in buona parte per circa 118.000 euro dal GAL, la restante parte dalle casse comunali e è un intervento che vedrà la sua realizzazione tra la fine del 2023 e l'inizio del 2024, ovviamente un altro investimento dal punto di vista turistico che crediamo in questo percorso sarà molto utilizzato e porterà ovviamente quello che è il nostro pensiero molti turisti. Ci avviciniamo alla fine dell'anno, quindi anche il momento per guardare al 2024 e quali sono gli interventi in programma, quantomeno i principali. Sì, da inizio mandato abbiamo sempre cercato di programmare gli interventi, programmare non solo nel breve periodo ma anche nel lungo periodo. Quindi sul 2024 abbiamo già interventi programmati e finanziati per circa 1.800.000 euro. I principali riguarderanno il blocco servizi, come già detto in presidenza, che riguarderanno il Parco del Castello, ma poi abbiamo ulteriori interventi molto importanti. I principali sono tre interventi di messa in sicurezza, abbiamo richiesto un contributo al Ministero nei mesi scorsi, abbiamo ottenuto esito positivo, con un'inclusione risultato assegnatario di 365.000 euro, per andare a sistemare il terzo e ultimo lotto del Tombotto, che ricordo che è la galleria che parte da sopra il Piazzale del Sole, torna a cero aperto davanti al SELS. Nei due anni precedenti abbiamo fratto i primi due interventi, uno da 330.000 euro, uno da 140.000 euro. Adesso con questo intervento riusciamo a completare tutta l'opera che pur essendo poco visibile è molto importante. si parla di circa 900 metri di galleria e 835.000 euro di investimento. Fra l'altro durante la preparazione dello studio di fattibilità ci si è accorti che sulla volta del terzo lotto, quello di cui stiamo parlando, si è creato una fessurazione importante e si rende quindi necessario intervenire. Fra l'altro un intervento interessante anche dal punto di vista tecnico, perché verranno utilizzate delle resine particolari e anche della fibra di carbonio proprio per legare tutta la struttura. Altri due interventi di messa in sicurezza riguarderanno invece delle vasche di laminazione. Anche qui abbiamo ottenuto un finanziamento dal Ministero per 392.000 euro circa. riguarderanno la zona dei pratimini, quindi via Gambirasio, e la zona di via Concerie. Quindi nel sottosuolo verranno posizionate delle vasche di laminazione che non sono altro che dei contenitori enormi per andare a contenere quell'acqua in eccesso che deriva da temporali e quindi da situazioni meteorologiche molto particolari e questo eviterà gli allagamenti durante queste condizioni. Quindi abbiamo detto che è un intervento di quasi 400.000 euro, siamo in fase di procettazione e sono interventi che verranno realizzati nel 2024. Abbiamo iniziato l'intervista parlando di un parco, concludiamo parlando di un altro parco, questa volta alle Fiorine, di quale spazio si tratta e cosa verrà fatto? Si tratta del parco dell'ex giudice di pace, un parchetto che oramai ha bisogno di una sistemazione grazie a dei fondi PNRR riusciremo a fare un intervento abbastanza radicale, quindi andremo a sostituire i giochi, andremo a creare delle piccole zone dove ci si potrà raggruppare con dei tavoli, verrà messa una nuova piantumazione dell'erba sintetica, verrà rifatta anche la recinzione e anche l'illuminazione. Un intervento di 440 mila euro che renderà quel parchettino un gioiellino all'interno della via Fiorine. Oltre a questo, voglio ricordare anche l'investimento che il Comune di Crusone andrà a fare sulle isole ecologiche grazie a un contributo da parte del Ministero. Si tratta di un intervento di 160 mila euro, riguarderà appunto quelle definite come isole ecologiche, ovvero quel contenitore rifiuti che verrà messo a disposizione dei turisti e dei turisti che hanno anche la seconda casa, quindi proprietari di seconda casa, che quando vanno via da Crusone, la domenica sera, non sanno dove andare a portare il loro rifiuto. Quindi questi saranno dei contenitori che ovviamente dobbiamo ancora studiare poi come dovranno essere svuotati e come dovrà avvenire il conferimento. Lì ci sarà la possibilità di depositare l'indifferenziato, piuttosto che la plastica, piuttosto che il carotone, ovvero tutti quei rifiuti che non hanno delle campane di raccolta, perché sappiamo che il vetro, c'è la raccolta per il vetro, l'alluminio anche, quindi quei residenti, cioè quei residenti, quei turisti o quei proprietari di seconda casa, lì avranno la possibilità. Questo ci permette di combattere il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti, purtroppo, pur investendo parecchie risorse anche nella videosorveglianza e stando attenti comunque al controllo e anche sanzionando i trasgressori, ci troviamo ancora in una situazione dove c'è bisogno di agire ulteriormente. Purtroppo il rispetto per l'ambiente non è ancora radicato nella nostra mente e lo vediamo tutti i giorni. Quando vediamo una carta a terra, quando vediamo qualcosa di a terra, è stato abbandonato volontariamente, non è caduto per caso, volontariamente. Questo sta alla nostra educazione e dobbiamo, secondo me, cominciare a lavorare dai bambini che sono quelli che sono un po' più aperti su questo tema. Tirando le somme, quindi, a quanto ammontano gli investimenti del Comune di Clusone in lavori pubblici nel 2023 e nel 2024? 2023 è la somma tra realizzato in realizzazione e in finanziato, quindi che si andrà a realizzare. Siamo a 1.800.000 euro, stessa cifra per il 2024 attuale. Può darsi che verranno inseriti ulteriori lavori che ovviamente alzeranno l'asticella. Per fare un riepilogo a fine 2023, da inizio mandato, siamo circa a 47 lavori per un importo totale di circa 4.600.000 euro.